Salve, allora sono 20 panini, sono giusto 100 Eccoli qua, con il danico Ah, in realtà mi aspettavo una piccola mancia Io in realtà ti aspettavo prima Eh vabbè, ma sono 20 panini Che ci posso fare? In un momento in cui bisognerebbe stare a casa Per chi sarà mai tutto questo cibo? La famiglia Ci piacciono i panini, facciamo due o tre a testa, va bene? Potrebbe essere Ma nel dubbio faccio 112 Ah, spero 112 a 50, va bene? Eh, grazie mille Buona serata Papà, ma che fate? Hai fatto 12 ore e 50 di mancia? Si chiamava i guardi Ah, molto bene, un ricco Buonasera Ah, buonasera Non si preoccupi, sono vaccinato All'otto a posto Sono tre panini E uno scontrino Ma io ho già pagato È il mio numero Papà, sono arrivati tre panini in urattusa Prego Pure io Sono molto cattolico E allora va a te Prima che ti cresimo Adesso faremo lì con questa stronzata Allora sono No, va bene Ma è lei Sì, sono io Pronto, amore? No Hai capito con chi sto? Ma non, un grande Un grandissimo Esagerato Amore, sto con Pietro Savastano No, non sono Pietro Savastano Vabbè, è normale Quello è il nome del personaggio Il nome vero è Fortunato Io sono fortunato a tenervi come cliente No, Fortunato Cernino È il nome dell'attore Però comunque non sono io Capito? No, amore, devi credermi Quanta umiltà in una sola persona Che bravo individuo Tu ve lo vedi? Sempre ingazzato, arrabbiato Dentro la serie Uno che può sempre sparare Non è assolutamente così È una persona tranquillissima Calma Per favore, non volete fare un video Con una frase di comune per la mia ragazza? Ma non penso sia il caso Ehi, vi prego Tenete i cianotti pagati per tutto l'anno Guardate come sono bello Come si chiama la tua ragazza? No, non la dovete salutare Dovete dire una frase famosa Vosso tipo Al mio segnale scatenate l'inverno Chi li ho quella dietro? Però, per un anno di cianotti Faccio pure Russell Crowe Ecco a voi Sushi e due bottiglie di vino Sono 57 euro Grazie Cena al lume di candela? Come si dice Sushi e vino e si fa casino Come si dice Col giapponese sei elegante Che sia moglie oppure amante Attendo c'è la moneta dentro Che sono 57 E la mancia? Come si dice Una mancia al fattorino E dura di più il pistolino Ma io di nuovo faccio carciullo Se non vai che mi ero tu O domanda Buona serata Ecco a lei Ma non è troppo presto Ma lei si è raccomandato di non fare tardi E quindi vi abbiamo messo come prima consegna Ma non sono neanche le 7 di sera Ecco sto un cospitato Buonasera Lei è il dottore vero? E qui si è scritto Dottore Cagliazzo Si Meno male Perché sono un re Che ha la tachicardia La fanna Tutte cose Eh mi dispiace Perché? Perché sono dottore Ma in economia e commercio Ah Grazie a tutti Grazie a tutti.